...a prendere in immediatamente il comando delle operazioni seguito da Slomko... ...e transitare sul traguardo. ...a prendere la fase del cappol. ...e transitare sul traguardo. ...e transitare sul traguardo. ...e transitare sul traguardo. ...e transitare sul traguardo. Grazie a tutti. 37,9 il crono di Simonanzi. Niente da fare. Simonanzi al momento non ha le energie per andare a riprendere Mansell e con esso il terzo posto. Quindi nel comando. Non so il tempo di Mansell. Non so il tempo di Mansell. 1,36,9,60. La seconda posizione. 3,38,6. 1,37,398. Il tempo di Mansell mentre siamo a 1,37,8 il tempo di Simonanzi. La seconda posizione. La terza posizione per Lonco e la terza posizione per Mansell. Ad un soffio troviamo Giovinazzi. La terza posizione. 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 La terza posizione.